Aveva firmato quattro rapine a Riccione nella notte del 31 maggio a bordo della sua bicicletta e armato di coltello. Un 25enne magrebino residente nel Modenese, di fatto senza dimora, è stato arrestato dai carabinieri in zona Marano proprio mentre tentava di rapinare altri giovani puntando loro il coltello all'altezza del collo. Da tempo i militari stavano indagando per individuare il responsabile delle quattro rapine del 31 maggio che avevano fruttato monili d'oro e circa 600 euro in contanti. Ricerche, controlli nelle colonie e negli edifici abbandonati fino all'identificazione del magrebino. Il giovane è stato pedinato e sorpreso mentre tentava nuovamente il colpo. In caserma il riconoscimento fotografico da parte di una delle vittime delle rapine del 31 maggio. Ora sono in corso indagini sulle restanti rapine che verosimilmente portano la sua firma. Due persone, reagendo al giovane, avevano riportato ferite alla mano causate dalla lama del coltello.